Italia divisa tra temporale e sole. L'inizio della settimana fa sapere il meteo.it sarà caratterizzato da una contrapposizione tra un vortice ciclonico in discesa dal nord Europa e il promontorio anticiclonico africano. Pertanto violenti temporali o grandinate potrebbero colpire le regioni settentrionali, in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, Venezia, Giulia. Il resto del paese resterà nella morsa del caldo con termometro oltre 36 gradi e punte di 40 in Puglia.